Aspetta la po', dai. Allora, oggi è l'11 agosto, secondo giorno. Allora, oggi è stato il secondo giorno e siamo partiti stamattina sotto un albero dove ho scoperto che stanotte cinque zanzai mi sono entrati nel SKP e mi hanno ammazzato. Per fortuna che stamattina mi lo sentite. E poi ci sono ritrovati, dopo questa notte dormite sotto un albero, alla mattina. La mattina siamo partiti, facciamo qualche chilometro, solo che dopo facciamo un errore gravissimo. Ci fermiamo in una spiaggia, solo che quando io e la mamma non ci riusciamo a fermare per poco tempo. Noi ci dobbiamo fermare o per un'ora e mezza o per due ore. Per una pausa prima non ce la facciamo mai. Quindi alla fine è successo che siamo stati, dobbiamo fermarci mezz'ora e invece siamo stati due ore. No, ma c'è un altro motivo che oggi siamo rallentati. Quale signora? L'acciclabile di Porto, l'acciclabile inesistente. Ah giusto, però è stato dopo. Eh sì, però anche se lo c'è l'allentato. Siamo partiti e arriviamo a un'altra cittadina dopo una trentina di chilometri e incontriamo lo signore che ci dice, proseguite per quella stradina e ne troverete... L'acciclabile per Porto Sant'Elpidio. L'acciclabile per Porto Sant'Elpidio. È molto corta ed è una pena ricongiunta, è nuova, quindi noi ci crediamo e proseguiamo. Dopo un chilometro... Lapa non ti vedo, devi mettere più luce. Dopo un chilometro ci troviamo in mezzo a una specie di palude. Ne proseguiamo a tre chilometri e a un certo punto ci troviamo in un'altra palude, sempre più fitta. In quella palude abbiamo però visto almeno una consolazione, un bel falco, ma siamo riusciti a vederlo anche da una trentina di metri, quindi abbastanza vicino. E aveva delle belle ali lunghe, un calco abbastanza piccolino. Poi abbiamo trovato un'altra stagione che ci ha portato a un cancello. Ovviamente il cancello aveva per fortuna, non volevamo farci a tre chilometri per arrivare a una strada del cacchio. Allora, per fortuna, una specie di... cosa... come si chiama? Rete abbassata, tipo fa conto, quella rete... Ma abbiamo fatto il filmato, Lapo? Come si vede nel filmato? No, non l'abbiamo fatto lì. Sì, l'ho fatto, l'ho fatto. Ok, dopo proseguiamo. Abbiamo tutto acciclabile, bella, siamo arrivati... A un... come si chiama? Porto Sant'Elpidio. Porto Sant'Elpidio dove... Dove abbiamo mangiato il gelato? Alla... Alla... come si chiama? Esagelato. All'esagelato. Buono, carini. Esatto, molto carini, che... e molto simpatici. E poi abbiamo trovato un posto. Quello posto è? Questo fichissimo posto è, finalmente, un parcheggio per... Non avremo molto paura, non avremo paura stanotte che vengo in dubbio a sbranarci. Sì, ciao. Buonasera. Buonasera.